Viaggio a Bruxelles ricco di appuntamenti per il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha anche incontrato la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Mezzola. Nel suo secondo giorno in Belgio, Marsilio ha assunto ufficialmente la carica di presidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei nell'ambito del Comitato delle Regioni. Il presidente ha annunciato che a novembre l'Aquila ospiterà le giornate di studio del gruppo ECR con delegati da tutta Europa. È il primo giorno in cui assumo la carica di presidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei nell'ambito del Comitato delle Regioni. Per me è un privilegio, un onore poter guidare questo gruppo. Cercherò di dare il nostro contributo. Tra le tematiche affrontate in Belgio, anche quella legata all'automotive. L'Abruzzo ha importanti fabbriche nel comprensorio della Val di Sangro, a partire dalla Seveldia Testa, c'è la Honda, c'è la Denso, la Pilkington, con tutta la filiera che ne caratterizza la forza industriale. Noi siamo molto preoccupati del fatto che questa corsa verso la trasformazione, verso l'elettrico, verso il nuovo tipo di mobilità stia andando incontro a problematiche che non sono state debitamente valutate, a cominciare dai posti di lavoro, dalla trasformazione sostenibile. E anche la guerra tra la Russia e la Ucraina ha dimostrato i limiti di questa politica che rischia di essere così un po' ingenuamente condotta per fare una lotta all'inquinamento, alla transizione verde, alla sostenibilità. E noi rischiamo di passare dalla dipendenza energetica nei confronti della Russia ha una dipendenza tecnologica e anche energetica nei confronti della Cina che non è esattamente l'alleato e il partner politico e commerciale più affidabile per l'Europa. Nel frattempo questa accelerazione verso il passaggio al 2035 del divieto di vendere macchine a motore termico rischia di distruggere migliaia di posti di lavoro e centinaia di aziende soprattutto dell'indotto e delle filiere produttive. Chiediamo una riflessione diversa, un maggiore pragmatismo, un senso pratico e domani ne parleremo e presenteremo un documento con le principali regioni europee che ospitano fabbriche di automobili e credo che questa voce debba essere assolutamente ascoltata.